Vi condurrò alla scoperta del Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo, frutto di un progetto unitario e coerente dovuto all'artista Tito Chini, edificato negli anni 20 e 30 del Novecento, giocato sull'orizzontalità e non sulla verticalità per esaltare l'universalità. Dal bui atto d'ingresso siamo invitati a inoltrarci nel primo piano, richiamati dalla luce per terminare il percorso nella stanza del Podestà e recepire quel messaggio di fiducia umanistica nella costruzione dell'uomo e nel suo perfezionamento interiore. Scopriamo due livelli di lettura, uno ufficiale e palese, uno privato e interiore. Il messaggio più profondo c'è la dietro alle decorazioni simboliche, alle vetrate e a tutti gli arredi e all'orientamento delle colonne al suo interno un preciso significato esoterico. A rendere singolare il palazzo è stata la comunanza di idee e lo stretto rapporto tra il generale Pecori Giraldi, che guidò durante la Grande Guerra e la Prima Armata, uscita vittoriosa a Trento, e Tito Chini, suo attendente artista, il quale non mancò di rendergli omaggio, ponendolo come unico vivente al centro della decorazione degli uomini illustri del Mugello, eseguita proprio nella sala del Podestà.